Primavera. Quest'anno si è fatta un po' attendere a dire il vero, ma ora è finalmente arrivata, si può dire. I segnali del suo arrivo c'erano già da un po' a dirla tutta. Tipo i bei ciorellini blu di Veronica Persica a coprire i prati, gli stessi prati che qualcuno dovrebbe usare per fare l'orto anche. E insieme a loro molte altre piantine erbacee che vi ho già mostrato a casa mia nel video che ormai ha due anni. Ma il ritorno dei fiori significa anche il ritorno di quegli insetti che vivono grazie ai fiori, come quelli che potete vedere svolazzare in questo video. Con le prime piogge e primaveri lì ho sentito un profumo che mi ha ricordato tantissimo la bella stagione, ossia il profumo della pioggia che bagna l'asfalto riscaldato dal sole. Cosa che detta da un naturalista potrebbe sembrare un po' triste. Però quel profumo è nei miei ricordi, volente o nolente, e mi fa ripercorrere quelle vie neurali che mi portano a ricordare quei bei momenti vissuti con quel profumo nelle narici. E si può fare anche un paragone con le osmie che state vedendo, le cui figlie molto probabilmente torneranno a deporre proprio nella casa che le ha fatte nascere e crescere. Non saranno le loro reti neurali, dato che non hanno un cervello come il nostro, ma molto più probabilmente il loro istinto a dirigerle verso casa.